Avevano trasformato i locali di una struttura di proprietà comunale in un vero e proprio dormitorio abusivo. Per questo sono state denunciate due persone, un uomo e una donna. Si è concluso così il blitz della polizia locale di Arezzo. La zona era da giorni monitorata a seguito delle numerose segnalazioni da parte di cittadini e residenti. Era stato così pianificato l'intervento. Alcuni giorni fa un'unità operativa composta da sei agenti ha provveduto a sgomberare il rifugio di fortuna a ridosso del parcheggio multipiano dell'ospedale San Donato di Arezzo. La polizia locale si avvalsa del supporto anche del personale dell'ufficio manutenzione del comune, dell'ufficio verde pubblico e del cane antidroga Drago che ha perlustrato tutta la zona a seguito delle numerose segnalazioni giunte anche per la presunta attività di spaccio. Gli agenti hanno inoltre demolito una costruzione in legna abusiva ed hanno chiuso gli immobili occupati. Le due persone trovate a dormire all'interno della struttura, una donna 35 anni italiana ed un tunesino privo di regolare permesso di soggiorno. Entrambi con precedenti sono stati denunciati per il reato di occupazione abusiva di edificio pubblico. Purtroppo diciamo sono molte ma non soltanto le proprietà comunali ma anche i fabbricati diciamo in disuso non utilizzati e chiusi in maniera sommaria perché i proprietari tanto basta che non c'entri dentro qualche animalaccio così si dice. Purtroppo sono usati dai diseredati per dormire. Allora la Polizia Municipale su indicazione dell'amministrazione fa bene a risolvere questi problemi con lo sgombero forzoso. Non è accettabile che vengano usati e che poi diventino anche ricettacolo di malaffare.